Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Presto nei giardini comunali di Grotta Minarda sarà a disposizione dei bambini meno fortunati un'altalena per le carrozzelle. La giostrina è in fase di installazione, un problema tecnico ne ha ritardato la messa in funzione. L'inserimento di un'altalena per diversamente abili nel parco giochi non dovrebbe rappresentare un fatto straordinario quanto piuttosto la normalità, ma almeno si tratta di un piccolo passo in più verso l'abbattimento delle barriere architettoniche e verso l'inclusione. I cittadini stanno accogliendo l'iniziativa con grande favore, l'auspicio è che la giostrina venga rispettata. Un'altalena per disabili a Grotta Minarda, un bel segnale di civiltà. Sì, senza dubbio. L'attenzione verso le categorie più deboli, le categorie che purtroppo per sfortuna dalla nascita o per episodi che sono capitati nel corso della vita si vedono costretti a non poter fruire dei servizi comuni, l'attenzione verso queste categorie è sicuramente un segno di grande civiltà. La cosa importante è che ci possa essere l'effettiva fruizione dopo l'impianto, per cui anche un'attenzione da parte nostra e di tutta la comunità al rispetto di quello spazio. È una bella cosa. Questo e tanto altro si potrebbe fare. Mi sembra un inizio. Complimento per l'ottima iniziativa perché è giusto che anche i bambini meno fortunati abbiano la possibilità di divertirsi perché già sono stati in qualche modo penalizzati, quindi è giusto che possono anche loro giocare come tutti gli altri bambini. Dimostriamo di essere un paese civile che è rispettoso sì delle attrezzature che servono pure per gli altri ragazzi, ma maggiormente perché ci preoccupiamo di persone diversamente abili e per cui questo ne va a vantaggi tutta la cittadinanza. Un giovane papà che spinge l'altalena, che ne pensa di questa altalena dedicata ai bambini sfortunati? Vabbè, penso che è una bella iniziativa perché anche tutti quanti hanno diritto di divertirsi e di giocare. Chiaramente ci vuole rispetto per questa attrezzatura. Ovviamente, quella è la prima cosa, altrimenti non c'è civiltà. Speriamo che sono la sanna di noi, quello è tutto. Speriamo che sono la sanna di noi,